Leggo. Ciao Andrea, innanzitutto grazie mille per aver accettato questa intervista. Quindi grazie a te Matteo, grazie a tutti quelli che guardano, leggono o non guardano per niente, perché anche quella è una scelta. E passo alla prima domanda. Partiamo dalla tua carriera come modella. Nel 2001 sei arrivata tra le finaliste per rappresentare la Slovacchia a Miss Universo. Dopodiché hai iniziato a sfilare per tantissimi brand famosi in tutto il mondo. Che ricordi hai di quel periodo? Com'era quella vita? Allora devi sapere che è una leggenda, che è sempre la mamma o la migliore amica che manda le tue foto a un'agenzia o a un concorso e sembra banale ma veramente era così. Era mia madre che ha cominciato tutto questo casino intorno alla mia vita. Io ho sempre studiato lingue, sono interpreta di professione e dopo quel concorso di Miss Slovacchia non ho voluto continuare. Infatti io sono cresciuta in Svizzera francese, ho studiato lì, ho lavorato lì finché nel 2002 non sono arrivata in Italia per fare un concorso, credo, di Miss qualcosa, mi ricordo bene. L'Italia mi è piaciuta subito rispetto alla Svizzera, dove però sono felice di essere cresciuta perché mi sono inquadrata bene e volevo continuare a fare l'interprete in Italia, dove però mi sono accorta subito che se parli cinque lingue ti danno mille euro al mese, se fai un servizio fotografico te li danno al giorno, quindi un po' per scelta ma soprattutto per necessità ho scelto di fare la vita da modella. Non è una vita che ha solo i lati positivi perché si viaggi, conosci gente nuova, tutto quanto. Non ci credo, scusate, ma comunque l'ho voluto fare perché ho dovuto mantenermi agli studi, visto che ho deciso di fare la maturità italiana in Italia e iscrivermi all'università. Ricordo quella vita come una vita di casting, di sbattimenti, di non dormire, di diete alle quali ho assistito delle mie colleghe, ma per fortuna io ho un metabolismo che non mi sono mai dovuta negare, né la birra, né la vodka, né le sigarette, né le patatine o la cioccolata. Era un passaggio da vita, ma ho sempre capito che non era il lavoro che volevo fare, ma mi aiutava andare avanti e poter vivere i miei sogni, i quali erano viaggiare in giro per l'Asia sei mesi l'anno e così via. Passo alla seconda domanda perché sto diventando logoroica. In Italia sei diventata famosa quando sei diventata la protagonista di molti video musicali di Vasco Rossi e quest'estate hai chiuso la tappa del suo concerto di Bologna. Come sono nate queste collaborazioni? Quindi sempre l'agenzia di moda per cui lavoravo all'inizio in Italia non mi ha mandata al casting per Vasco perché il budget era molto basso. Io non sapendo chi fosse Vasco perché ero appena arrivata e da grande motociclista pensavo che Vasco Rossi fosse padre di Valentino Rossi, sono andata a fare il casting con altre 5.000 ragazze e non so come sia possibile, sono arrivata fino in finale dove alla fine era necessario saper sparare con un'arma e visto che ho il porto d'armi, mi piace tantissimo andare al poligono. In qualche modo Vasco ha scelto me o forse anche per la mia ignoranza nei suoi confronti, nel senso che non lo conoscevo e forse avrà pensato questo almeno non mi romperà mai le palle durante gli undici video che dobbiamo girare. Quindi la collaborazione è nata così, io ero e sono tuttora abbastanza una grande fan di Marco Masini, ma appunto chiudendo la tappa dei concerti di Vasco Rossi quest'anno ho confermato che ho imparato a ascoltare Vasco e ho imparato a apprezzare, anche se devo dire che preferisco le sue vecchie canzoni e non più quelle nuove. Moda, musica, ma anche e soprattutto tv, la tua consacrazione televisiva è venuta con Piero Chiambretti. Qual è stato il momento più bello di quell'esperienza televisiva? Allora, devo dire che con Piero tutti i momenti sono belli e lo dico non tanto per dire ma perché lo penso veramente. È una persona di una velocità mentale impressionante, io lo chiamo la Lamborghini tra le Fiat, il numero 7 del dado. E il momento più bello forse era proprio quello in cui ho iniziato la collaborazione con lui quando mi aveva invitata a Marchette per fare un'intervista appunto come musa di Vasco Rossi e mi aveva fatto la domanda ma lei signorina cosa ha fatto dopo aver fatto l'amore? E io senza pensarci ho risposto mi presento. Quindi in quel momento Piero mi ha guardato un po' così e mi ha proposto un contratto che è durato fino a poco fa perché alla fine abbiamo sempre collaborato per tutti questi anni che sia su media, seto Italia 1 o ovunque. Piero lo stimo moltissimo ma rimpiango i vecchi tempi a Marchette dove lui aveva più libertà, più libertà di espressione, di ospiti, di scelta di ospiti e c'era sicuramente un cast molto più interessante di adesso. Da opinionista concorrente di due reality, prima un 2-3 stalla e poi l'isola dei famosi come sono state queste due avventure? Quale hai preferito? Dio, è una domanda bella difficile però un 2-3 stalla era un reality in Italia quindi molto meno interessante per me che amo viaggiare però era fatto di animali, di vita in campagna quindi io sono cresciuta così in Slovacchia allora mi ricordava molto questa vita di fare il formaggio la mattina, mungere le mucche mi è piaciuto molto, non mi è piaciuto il modo, la strategia del gioco che bisogna sempre andare contro qualcuno e io non ho abbastanza forza per dare contro alle persone soprattutto non in televisione, quindi sono sempre passata molto inosservata in questi giochi di strategie l'isola invece è stata fatta all'estero, nelle Honduras, delle quali non ho visto niente perché appunto eravamo chiusi su un'isola, è sempre un gioco di strategie ma indubbiamente molto più duro per quanto riguarda il cibo, la pace, la serenità, è un po' tutto molto, è stata dura ho preferito quindi, avrei preferito forse una specie di isola nella fattoria se è possibile se tornassi indietro, le rifaresti? devo dire di sì che rifarei sia un reality che l'altro ma per un semplice motivo che non mi piace darmi contro e voglio essere coerente quindi sì le rifarei a distanza di un po' di tempo sei rimasta in contatto con qualcuno dei concorrenti dei due reality? del primo reality sono rimasta in contatto con i contadini che quindi non erano persone dello spettacolo e con due di loro mi sento ancora e invece dell'isola sento a volte Antonella, Elia e Aida che mi ha molto sorpreso per la sua capacità di socializzare, di essere serena, tranquilla non una che ama i pettegoli, una veramente alla mano per non farti mancare niente hai preso parte anche a diverse pellicole cinematografiche e una fiction che Dio ci aiuti due qual è l'esperienza che nel campo della recitazione che ricordi con più piacere? ma non ho, forse quando abbiamo fatto il film Alba Chiara visto che c'era comunque Vasco mi è piaciuto collaborare di nuovo con lui però sicuramente tutte le altre cose che ho fatto in tv le ho fatte perché avevo un qualche motivo non economico quindi o credevo nel progetto o mi piaceva particolarmente qualcosa nel caso che Dio ci aiuti era un'esperienza appunto di pellicola e mi piaceva l'idea di farlo ma pur da non credente non ho mai visto questa fiction non mi sono neanche mai vista perché non mi guardo mai e perché non ho la televisione però ripeto mi piacciono tutte le cose che decido di fare e infine non potevi non cimentarti con la conduzione hai infatti condotto numerose edizioni del Circo Massimo e del Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo quanto sono state importanti queste cose nella tua carriera? devo dire che questa conduzione mi soddisfa molto per un semplice motivo che io rimango comunque una straniera in Italia e fare tre anni di seguito tutte le edizioni del Circo mi soddisfa perché è un grande lavoro ci tengo moltissimo non dormo per giorni ma non perché mi facciano lavorare così tanto ma perché sono ansiosa di mio voglio sempre dare il meglio è una bellissima esperienza e nonostante io sia contro e ripeto contro gli animali nel Circo il mio lavoro è quello di conduttrice quindi non sono io che addestro i leoni perciò gente che mi ha criticato tu animalista conduci il Circo è un po' come una cassiera che è vegetariana però il polo te lo deve vendere perché è il suo lavoro quindi comunque ci tengo molto a questo lavoro e spero tantissimo che anche questo gennaio per la 37esima edizione del Festival di Monte Carlo potrà essere presente un'ultima domanda prima di lasciarti se dovessi immaginarti tra vent'anni come ti vedresti io lo sapevo lo sapevo che devo invecchiare io mi vedrei tantissimo in Thailandia a vendere il cocco in spiaggia ai turisti però meno turisti ci saranno meglio sarà e comunque mi vedo in un posto dove posso ridare alla vita quello che la vita mi ha dato perché sicuramente sono stata fortunata sicuramente ho aiutato anch'io la mia fortuna ma comunque ci sono persone che meritano indubbiamente che io condivida con loro almeno quello che posso dare a loro che siano piccolezze, che siano sorrisi, che siano soldi che sia qualsiasi altra cosa grazie mille ancora per la tua enorme disponibilità siccome non mi hai fatto una domanda Marco quindi me la faccio da sola e sarebbe cosa è per te la cosa più importante nella vita in questo momento quindi io te la vado a prendere e te la faccio vedere subito e con questo mi dichiaro anche perché questo amore mio della mia vita che è stato salvata è un rattaccio obeso che dorme con me, vive con me in questo momento viviamo a Bratislava perché conduciamo un programma televisivo e quindi ci siamo trasferite in questa città freddissima e Adelina è sempre con me quindi invito tutti intanto a non usare i prodotti testati su animali e a non pensare che i ratti sono dei schifosi animali brutti, puzzolenti e stupidi alla prossima